da ieri la lazio annuncia un altro acquisto il terzo dopo le due ali arriva il trequartista fisaio delle basciro e voi direte chi è fisa delle basciro bella domanda non lo so neanche io però è un trequartista ciò che significa che la lazio ha preso non so se la titolare o comunque la riserva per farlo crescere nella lazio visto che comunque poi andremo a parlare ho visto un giocatore molto giovane il presunto sostituto di luis alberto perlomeno di camada scusate perché alla fine camada dal trequartista luis alberto era più uno che giocava a mezzo al campo però aveva bisogno di gioco e tutto con vinico vissati c'è tempo alle spalle adesso lo sappiamo non ci sono più nessuno dei due quindi la lazio deve anche rifondare il centrocampo perché sa vicendo due stagioni fa quest'anno si è andato via luis alberto non c'è anche già più camada quindi la lazio completamente da rifare anche il centrocampo e la lazio riparte da fisaio delle basciro allora ragazzi è sbarcato ieri in italia a roma e ieri credo che ha svolto anche le visite mediche o le svolgerà oggi fatto sa che comunque a giorni fermerà il contratto con la lazio viene dallata ispor quindi campionato turco le cifre sono prestito con obbligo di riscatto prestito oneroso quindi si parla di un bel prestito non so a quanto sarà un milione due non lo so con l'obbligo di riscatto a 6 milioni quindi una cifra comunque neanche poco neanche importante perché tra il prestito oneroso e i 6 milioni siamo sui 7 7 e mezzo 8 di giocatore e se andiamo a vedere su transfer market e il signor fisario delle basciro viene quotato 2 milioni quindi la lazio da questo punto di vista lo paga molto di più di quello che il suo valore di transfer market forse perché voleva bruciare la concorrenza c'era qualche altra squadra su questo giocatore che io personalmente non conosco non lo so quanto sa che comunque ripeto è un classe 2001 c'ha 23 anni quindi molto giovane nigeriano alto 1 36 quindi un'altezza anche abbastanza considerevole un trequartista e ragazzi da un po che altri ruoli può fare secondo transfer market può fare bel trequartista solo naturale però l'occorrenza può fare anche il centrocampista centrale quindi una mezzala e proprio se sei nella te cacca lo puoi mettere anche come alla destra secondo transfer market io più che altro sono curioso di vedere i dati dell'anno scorso e i dati complessivi di questo delle basciro perché ripeto se la lazio lo va a pagare più del dovuto è perché si vede che comunque ha fatto una stagione importante se non credo che lo ti tocchi 7 passa milioni per un giocatore che comunque ripeto scusa di ignoranza non lo conoscevo ma non seguo il campionato turco anche perché ripeto non seguo tutti i campionati c'è già dato che sento quello di serie a corti impegni che ciò e quindi e quindi ecco giusto giusto così però io so che chi lo conosce meno su twitter no girava un po in giro e se ne parla bene di questo ragazzo deve essere sincero dicono che se ne parla bene quest'anno ha fatto esattamente fammi vedere 36 presenze quindi ha giocato praticamente tutte liga turca poi ci sarà anche la coppa turca che ha fatto tre presenze quindi un totale di 39 presenze con 9 gol e 6 assist con 6 munizioni e 3.227 minuti giocati cioè comunque ragazzi per un trequartista per un trequartista della coppa turca e capito turco 9 gol e 6 assist non è poco eh non è poco ora capisco perché il valore di 2 milioni ma ma la squadra turca ha alzato fino a 7 8 perché comunque questi qua sono numeri incoraggianti poi è vero è sempre il campionato turco magari non è a livello della serie a sono d'accordo però per un classe 2001 fare 9 gol e 6 assist mica mica male ora che vedo i dati perché ragazzi sto guardando tutti insieme a voi perché non lo conosco però non pensavo avesse fatto così bene perché comunque 9 gol e 6 assist comunque è una buona è una buona media da quando nel calcio che conta ovviamente ha fatto pochissime presenze ne ha fatto solamente 194 perché giovanissimo ragazzo e con 194 presenze ha fatto 21 gol e 14 assist con 9 gialli per un totale di 11.664 minuti giocati dal minutaggio si direbbe che comunque beh anche giovane infortuni pochi quando gioca la porta la vede è stato il quartista la vede e allo stesso tempo riesce anche a servire i compagni per mandargli in rete quindi occhi e croce anche se non lo conosco dai dati statistici non sembra molto un brutto acquisto da parte della Lazio magari anche per il futuro non si parla di adesso ma comunque anche per il futuro che verrà la Lazio secondo me ha preso un grandissimo giocatore allora in realtà però qua c'è scritto che allora secondo transfer market sempre sono dati statistici che vi porto e non sono sbagliati perché sono di transfer market lui è trequartista nasce trequartista e trequartista il problema è che nella maggior parte delle sue partite le ha fatte da centrocampista centrale vedo qua perché ha fatto 82 presenze da centrocampista centrale quindi mezzala con 13 gol e 8 assist poi ha fatto 30 presenze da trequartista con quattro gol e quattro assist ma se ne va a vedere la differenza è tante da 82 come 100 capista centrale a 30 come trequartista c'è differenza poi ha fatto anche sei presenze come ala sinistra con due gol e un assist ha fatto sei presenze anche dall'altra parte quindi come alla destra con un gol 0 assist poi ha fatto addirittura tre presenze da mediano con 0 gol e 0 assist 32 presenze da centrocampista di destra con 0 gol e 0 assist e due presenze anche da terzino destro impiegato anche il terzino destro con 0 gol e 0 assist quindi la lazio ragazzi rettifico si prende prende trequartista però effettivamente parlando potrebbe giocare veramente come come mezzala di qualità e di inserimento un po alla un po boh non so se all'ulis alberto all'amico vissavi ci faccio sa che comunque poi vedremo un attimino baroni dove lo impiegherà se lo vorrà mettere proprio a punto del suo ruolo naturale quindi trequartista o seppure appunto continuare a farlo giocare come centrale di mezzala perché poi alla fine 82 presenze e 13 gol 8 assist sono numeri mica niente male mica niente male siete quartista 30 presenze 4 gol e 4 assist non sono brutti i numeri ma c'è la non c'è scritto di quant'è ma credo che sia quinquennale o comunque quadriennale perché è molto giovane non so le cifre ma credo che sono cifre relativamente basse perché comunque non so quanto poteva apriare lì in burchia ma la lazio avrà alzato un po l'offerta e avrà convinto il giocatore ad arrivare ragazzi ora che ho visto questi dati statistici sono curioso di vederli in serie a questo questo delle bascino sono curioso mi stuzzica poi ripeto magari potrebbe essere anche un fiasco in serie a magari potrebbe far male però le statistiche ora che le leggo insieme a voi sono incoraggianti mi piace anche scoprire i giocatori proprio insieme a voi in diretta nei video per se anche voi lo conoscete lo conosciamo insieme e poi le statistiche che leggo non è mica male ragazzi fatemi sapere un po voi qui nei commenti cosa ne pensate dell'acquisto di fisaglio delle bascino dalla lazio fatevi sapere soprattutto se voi lo conoscevate già per caso e anche voi sapete che è forte che un bel giocatore lasciate un bel like se comunque il video vi è piaciuto e soprattutto ragazzi anche se vi piacere l'iscrizione al canale che è fuori in Italia non costa nulla e per me ho avuto il vostro supporto attivate anche la campione delle notifiche perché stasera andiamo in live sia alle 18 con l'Inghilterra che alle 21 con l'Olanda e Turchia quindi anche lì è attivata la campione delle notifiche così poi arriva la notifichina che alle bianco nero lo scassa palle se volete vederlo è in live insieme a me con gli europei qui da me è tutto ragazzi bella fisaglio delle bascino